Ups a tutti, miei cari upsini, upsine, come, come, come state? Spero veramente bene, oggi sono qui solo per voi, per fare questo nuovissimo video che ha il titolo un po' difficile, ma, in poche parole, oggi spero di riuscire a rilassarti con del whispering che va da un orecchio all'altro orecchio, e vorrei che questo whispering fosse molto lento, molto calmo, apposto per rilassarti, senza parlare troppo velocemente, perfetto per farti addormentare. Quindi, indossa un paio di cuffiette, o cuffie più grandi, stenditi sul tuo letto e chiudi gli occhi, chiudi, 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 chiudi gli occhi. Ok, allora, iniziare a registrare questo video è stato un po' un incubo, perché per poco non facevo scattare l'antivurto di casa, e già, meno male che mi sono ricordato che dovevo staccarlo, perché quando registro è necessario proprio che la finestra di camera mia sia chiusa, altrimenti tutto il caos che c'è fuori si sente forte, ma se chiudevo la finestra scattava l'antivurto, quindi l'ho staccato, perché l'antivurto rileva sia se la finestra viene aperta, sia se la finestra viene chiusa, quindi scatta in entrambi i casi, e tutti immagini alle tre di notte far scattare un antivurto, una bellezza, insomma, una bellezza. Poi sta piano piano iniziando a fare sempre più caldo, e questa cosa un po' mi spaventa, un po' mi spaventa, eh già, perché, proprio perché io devo registrare chiuso, morirò di caldo. È anche vero che in casa ho due condizionatori, quindi se li accendo di notte, magari, l'aria un po' si mantiene fredda, però non lo so. Mi piacciono gli hand sounds? Perché? È veramente tanto che non li faccio. Comunque, in questo video, appunto, vorrei semplicemente parlare senza troppe pretese, insomma. Mi provo il naso. Qui. Qui. Che cosa possiamo dire? Allora, voi questo video lo vedrete, appunto, giovedì, che sarà il 22, se non sbaglio, 22. Io, adesso che sto registrando il video, sono le tre di notte, in realtà, le 2 e 58 di sabato 17. Questa settimana, anziché registrare la notte tra sabato e domenica, ho deciso di registrare la notte tra venerdì e sabato, appunto, perché oggi posso dire, visto che per me è sabato, come ho detto, nello scorso video ci sarà il Pride a Torino e quindi, metti caso stasera, farò tardi. almeno, non mi devo preoccupare per preparare tutto per registrare. Poi, parlando di registrazione, dalla prossima settimana, devo iniziare a programmarmi bene le registrazioni, perché devo iniziare a prepararmi qualche video in anticipo per il mese di agosto, perché agosto sarò in vacanza e quindi non riuscirò a registrare anche perché il posto dove vado in vacanza, a parte la settimana al mare che faccio a Rimini nella spiaggia, quella dell'anno scorso con i recinti per i cani, il posto dove vado in vacanza, ovvero dai miei nonni materni è un luogo diciamo molto rumoroso, diciamo così, guarda, e quindi non riuscirei, non riuscirei, però parlando di video una cosa posso dirvela già subito il prossimo video so già che video sarà perché una ragazza mi ha recentemente taggato in un videotag che trovo veramente, veramente, veramente carino, il suo canale mi sembra si chiama Aurax ASMR e quindi penso proprio che risponderò a questo videotag si chiama Triggers Tag se non sbaglio e parla appunto di trigger e l'ho trovato veramente carino quindi spero spero lo guardiate in tanti dai ok ho la cola tipo secchissima però vabbè adesso prendo un po' il pennello l'obbast un po' quà l'obbast Fa un bel suono, dite. Altra domandina. Altra domandina. Come sono andate le vostre pagelle? Perché ormai penso saranno uscite a tutti. Le mie sono uscite o il 15 o il 16 giugno, non mi ricordo. E sono veramente felice del risultato. Anche perché in una materia avevo una media del 7.4 ma mi ha comunque dato 8. La professoressa, infatti, sono veramente felice. Perché con questa professoressa qua non ho mai capito se gli sto antipatico oppure... Secondo me le sto anche simpatico ma il voto che mi mette sempre è 7. Che vado bene, che vado male, io sempre 7 prendo con lei. Quindi, ora, un po' strano, però finché mi ha messo 8. Grazie. Questo voglio dire con lei. E invece a compiti come siete messi. Io fortunatamente ne ho ricevuti, tra virgolette, pochi. Io devo fare solo quattro materie. Italiano, inglese, matematica e fisica. In inglese l'ho praticamente già finito e adesso sto lavorando su matematica che penso che per questa settimana qua avrò finito. Perché era corta, erano qualche esercizio. I veri problemi sono italiano e fisica. Italiano che in realtà devo solo scrivere tre temi e dovrei anche leggere dei libri, però quelli là te li puoi anche portare in vacanza. Dei libri penso che ne leggerò uno, in realtà, però vabbè. E poi fisica perché io non capisco nulla. Cioè, ho letto il primo esercizio e ho detto che devo fare io. Quindi, 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 po. Non ne ho idea. Non ne ho idea. Non ne ho idea. Mi arrangerò un po', come sempre, insomma. Ma cos'è questo caos che c'è, però? Non lo so, non lo so. Ho preso questo dischetto struccante. Per ripulire, dico, un po'. Aspetta, perché non so come parlo, questo rato. Era solo per aggiungere qualcosa di diverso a questo video prettamente parlato. Comunque, appunto, io spero di finire tutti i compiti scritti prima di agosto, perché in vacanza voglio solo portarmi i libri da leggere. Quindi, quello di italiano, quello di inglese che devo leggere, ma è un libricino veramente piccolo. E poi i miei libri, quelli che sto leggendo io, perché attualmente sto leggendo ragazzi della tempesta, del booktok, quello dei ragazzi che incarnano le stagioni. E sono quasi a metà, quindi spero di finirlo abbastanza presto. Perché in vacanza, appunto, vorrei portarmi qualche libro, perché ho proprio, sono vicino al letto la pila dei libri che devo leggere, quindi tralasciamo. Però, adesso mi sembra il momento di darti la buonanotte. Sono qui a parlare già da un po' ormai, quindi, cucù, cucù. Adesso, tocca solo a te, iscriviti al canale se sei nuovo, per entrare a far parte della Ups Community. E diventare Upsina, se sei un maschietto, altrimenti un Upsina, se sei una femminoccia. Poi, lascia un bel like, se il video ti è piaciuto, e cosa importantissima, commenta, lascia un bel commento, proprio qua sotto. Il video di oggi finisce qua, ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio qua il mio video precedente. Qua una mia playlist, e qua il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai, va bene? Quindi, quindi adesso ti mando un grande bacio, e noi ci vediamo nel prossimo video. Buonanotte. 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 Grazie a tutti